Ciao, tutto bene? Sì, sì È un po' strano così Così, però da una parte è pure meglio Gli hanno delle file cose, no? Tu ci avevi già provato in passato? No, no, questa è la prima volta Piacere Io sono Stefania, faccio parte del team musicale di X-Factor Benvenuta Ok Grazie Spero di emozionare Lo spero E' quello a cui punto Io mi emoziono quando canto Sento quello che dico E quindi spero che questo messaggio sia trasmesso Un aspetto un po' strano Beh, un esperimento, no? Come questo provino su Zoom L'occhio l'avrebbe omede Stranissimo, tranquissimo È bellissimo perché il mio interlocutore in questo momento è il mio spazio Ho deciso di mettermi in gioco viaggiando E ho fatto questo viaggio in giro per l'Europa Con semplicemente la mia chitarra Da solo? Sì, da solo A me mi piaceva molto le opportunità che si stavano dando in X-Factor Italia Ai cantanti più, diciamo, più cantautori Allora ho deciso di presentarmi perché sapevo l'italiano quasi perfettamente C'è pure lo spagnolo Allora ho deciso di presentarmi Poi in camera ho pure un altarino Ho detto anche One Pilots con i coriandoli che ho raccolto al concerto Qua? Ce l'hai lì? Sì, ce l'ho, ce l'ho Ti puoi vedere? Certo, certo Poi ci sono nel barattolo proprio i coriandoli che loro fanno chiedere al concerto È la mia band preferita Sulla batteria hai detto che l'hai suonata per 14 anni quindi hai iniziato da bambino Di 6 anni andavo sempre a vedere, diciamo, il montaggio dei palchi Perché a me emozionava vedere come montavano i palchi, il montaggio della batteria, il soundcheck E mi mettevo lì spesso davanti alla piazza qui di Montecelio che è un paesino dove abito io E mi mettevo a suonare con le cassette del latte e con le bottiglie C'era una piccola alimentari che lasciava fuori queste cassette, diciamo, con le bottiglie E io le prendevo e mi metteva a suonare lì fuori dalla piazza Dicevo io un giorno dovrò stare lì sopra Non so come si chiude, è la prima volta che utilizzo Zoom E io le prendo a suonare lì fuori dalla piazza